L'uomo vitruviano di Leonardo prende vita alla mostra Leonardo III di Milano, interamente dedicata al genio italiano. Una nuova installazione multimediale attraverso la tecnologia 3D svela i dettagli del celebre disegno anatomico, manifesto delle proporzioni ideali del corpo umano. La ricostruzione tridimensionale mostra come è stato realizzato il disegno e qual è il suo scopo, usare la scienza per eccellere nell'arte, vero segreto della genialità di Leonardo, come spiega Mario Taddei, curatore dell'installazione. Lo scopo finale è quello di dare delle proporzioni tra le varie parti del corpo umano in modo tale da essere un ottimo pittore. Il segreto di Leonardo era quello di capire esattamente quali erano le proporzioni corrette del corpo umano per poterlo poi ridipingere. In realtà l'uomo vitruviano era stato studiato da Vitruvio per essere applicato all'architettura. Leonardo invece lo ruba a Francesco Di Giorgio che l'aveva disegnato prima di lui e lo riutilizza a scopi artistici. Questo è il segreto di Leonardo dunque. I suoi capolavori pittorici non sono solo frutto di un dono innato ma di uno studio intenso e continuo dell'amore per la scienza e della curiosità per tutte le attività umane. Un interesse così vasto che lo ha portato a eccellere in una moltitudine di settori artistici e scientifici. Ne sono un esempio le sue geniali invenzioni, catapulte, ponti, rudimentali strumenti di volo. Molti raccolti e ricostruiti nel museo in Piazza della Scala che si affaccia sulla Galleria Vittorio Emanuele e che ora comprende anche una sezione in cui è possibile montare e smontare alcuni dei suoi macchinari per sentirsi almeno per un po' come Leonardo da Vinci.